Oggi mandiamo un saluto ai nostri ragazzi, agli studenti che hanno attraversato come tutti e forse più di altri un anno molto particolare, molto difficile. È la settimana dell'educazione civica, noi riponiamo in questi nostri giovani tanta fiducia, sono il nostro ottimismo, sono ciò per cui ogni giorno investiamo tante energie, tanta programmazione, tanti progetti, tanti cantieri perché speriamo di consegnarli una città che dia a loro una qualità della vita molto alta e dia a loro l'opportunità di rimanere qui a costruire il loro futuro e a diventare nuova classe dirigente. È per questo che serve il coinvolgimento di tutti, a cominciare dai più piccoli sugli aspetti importanti della comunità. L'educazione civica non è un tema teorico, significa veramente prendersi cura nelle regole del bene comune. Ed è per questo che anche in maniera simbolica questa settimana consegneremo ad ognuno degli istituti scolastici di pertinenza del Comune di Taranto un testo sacro per noi che è la Costituzione. Noi speriamo che ci sia il modo attraverso questi giovani di migliorare la nostra società, la nostra comunità e di avere una Taranto che diventa da questo punto di vista sempre più consapevole del mondo che sta cambiando intorno a noi.